Martedì, martedì 3 settembre, sono le 7 del mattino, buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di Omnibus News. Democlick titola la prima pagina del manifesto perché oggi è la giornata di Rousseau, ovvero la giornata in cui 110 mila persone circa voteranno sulla piattaforma Rousseau, dovranno essere iscritte da almeno sei mesi in modo da garantire, secondo gli organizzatori, una certa imparzialità e non essersi iscritti all'ultimo minuto e decideranno se l'accordo con il Partito Democratico per creare il nuovo governo si deve fare oppure no. Scrive infatti correttamente il manifesto, fra l'altro dietro fronte di Luigi Di Maio, non sarà vice premier, appello del presidente incaricato Giuseppe Conta alla base grillina, governo forte e stabile, basta dubbi, è il momento di sognare e di cliccare i 5 stelle, oggi decidono tutto con la piattaforma privata Rousseau. C'è molto, anzi c'è quasi tutto in questo titolo del manifesto, c'è la critica che viene avanzata da più parti, il fatto che si tratti appunto di una piattaforma privata che si inserisce però in un iter che ha evidentemente anche dei paletti e un sentiero costituzionale da seguire ed evidentemente quindi esce diciamo così da questo sentiero, c'è l'appello di Conte fatto ieri e c'è il passo indietro di Luigi Di Maio o almeno così viene letto dal manifesto perché e così viene letto anche da la maggior parte dei quotidiani, vedete per esempio eccolo qua il titolo del Corriere della Sera che parla esplicitamente del passo indietro di Di Maio che non sarà vice premier e quindi e poi dell'appello di Conte è ora di sognare. Perché ve lo faccio notare? Perché se ieri avete visto i telegiornali, ho seguito anche avete visto probabilmente il video di Di Maio nel quale invece lui sosteneva che era stato il partito democratico finalmente a togliere diciamo così l'ampas sulla vicenda vice premier e questo aveva consentito diciamo così lo sciogliersi della situazione. Nessuno sembra credergli tant'è che infatti per esempio eccolo qua guardate anche anche la stampa fa questo questo titolo Di Maio arretra e sblocca l'intesa e però anche qui si sottolinea come il governo si è appeso alla rete grillina e quindi l'appello fatto ieri appunto da Conte l'altro video per dire sì è un'occasione unica e però la stampa vedete come in realtà poi anche altri quotidiani si interroga su quella che sarà la sorte del cosiddetto numero due cioè di Di Maio che potrebbe andare agli esteri ma vedremo in realtà lui pare che abbia chiesto anche il ministero degli interni. Intanto però non voglio tralasciare anche le altre notizie che compaiono sulle prime pagine dei quotidiani era sia sul Corriere della Sera l'avete molto ben presente anche sulla stampa e su altri quotidiani vedete questa fotografia fa una certa impressione è una casa travolta dall'uregano Dorian alle Bahamas ci sono morti per le strade è sicuramente una grande tragedia che sta colpendo in queste ore anche le coste della Florida. Andiamo a vedere invece la Repubblica ecco vedete la Repubblica preferisce diciamo così mettere tutta la sua attenzione su quella che definisce la roulette russo e quindi il fatto che manchi solo la consultazione sul web prima di arrivare per l'appunto ad un governo e però sottolinea la Repubblica e lo fa vedete vedrete anche nelle pagine interne e forse l'unico quotidiano che dà questa attenzione sottolinea in dicevo l'attenzione al programma tant'è che proprio nel titolo di apertura parla del decreto sicurezza e di autostrade come degli ultimi nodi da sciogliere e a proposito di programma vedete nel programma il taglio dei parlamentari ma va rifatta anche la legge elettorale e se ne occupano ben tre colleghi Casadio, Patucchi e Vecchio in modo molto molto esteso. A centropagina la Repubblica invece ci riporta in Europa alle vicende della Brexit con questo ultimatum lanciato dal Premier Boris Johnson se non ci sarà la Brexit ci saranno le elezioni anticipate il 14 di ottobre. Ho il tempo ancora di farvi vedere il fatto quotidiano che sapete è da sempre un sostenitore dell'accordo fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle c'è questo strano fotomontaggio con i volti e gli occhi di Conte, Di Maio, Zingaretti insomma fa una certa impressione. Questo è il titolo, c'è del verde nel programma quindi sicuramente un titolo ottimista ma anche che strizza l'occhio all'anima green del Movimento 5 Stelle, nessun vice, doppia rinuncia, vedete qua davvero si cerca l'equidistanza, doppia rinuncia PD Movimento 5 Stelle nei punti, poi stop a inceneritori e trivelle, green economy, pene più alta agli evasori e per il voto russo appelli alla base con Conte che dice non tenete le idee nei cassetti, usatele, Di Maio salviamo le nostre leggi. Bene, ci fermiamo qui perché sono le 7 e 6, dopo vi faccio vedere anche gli altri giornali e vedrete come però le cose cambiano. Allora, 7 e 11, riprendiamo la lettura dei nostri quotidiani, andiamoci a vedere quelli dichiaratamente, spessamente di destra o che comunque hanno fin dall'inizio parteggiato contro un governo PD Movimento 5 Stelle, a partire dal giornale per esempio che infatti fa un titolo molto esplicito, giallorossi di vergogna, parte il governo dei perdenti, fine della manfrina, PD e Movimento 5 Stelle si dividono le poltrone, oggi la farsa russo, non solo ma poi viene rincarata la dose perché scrive il giornale subito aprono i porti dalle navi, ONG sbarcano tutti, si riferisce al fatto che per l'appunto sono entrate in porto alcune delle navi che si trovavano a largo, sono state sbarcate le persone che ormai da giorni si trovavano su quelle navi e questo viene letto appunto come una catastrofe. Si discute molto anche su questi quotidiani della piattaforma russo, della possibilità e dell'opportunità o meno di votare e ci sono anche diciamo così pareri discordanti. Vi segnalo l'editoriale di Alessandro Sallusti, del direttore, perché su russo io voterei per il sì perché il tono è abbastanza diciamo così sarcastico però insomma la dice lunga su alcuni aspetti. Intanto dice Sallusti e vabbè ovviamente dice che il primo motivo per cui voterebbe sì è che da collega vuole dare una mano a Enrico Mentana e mettere fine alla sua maratona televisiva che lo vede costretto a stare in diretta 12 ore al giorno perché dice anche un'ultra maratoneta ha diritto di sapere dov'è il traguardo e questo e vabbè ne prendiamo atto. Ma il secondo motivo è più interessante forse dice è egoistico Montanelli ricorda gli disse all'epoca quando lavoravano insieme che dice se scrivi un articolo su un governo devi sostenere che è un governo che fa schifo, mai dire che è bravo perché il lettore si arrabbia. Dice allora noi prima, racconta Sallusti, eravamo costretti a dire che faceva schifo a giorni alterni perché c'era un nemico che era Di Maio e un amico che era Salvini adesso invece finalmente, lo dice lui, dice potremo sbizzarrirci a piacimento con continuità di critiche e sberleffi. Diciamo che poi uno si aspetta magari un po' di equidistanza ma qui sicuramente non ce l'ha. E infine dice vedere il popolo grillino che dice sì a governare con Renzi e Maria Elena Boschi e il PD togliere come d'accordi le concessioni agli amici Benetton è certamente per dirla alla Giovanotti il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Sapevamo che i 5 Stelle erano in vendita, non immaginavamo raggiungessero così presto e così spudoratamente il livello del PD che la festa inizi, teniamoci stretti e buon divertimento. Questo quindi il viatico del giornale, libero e ugualmente tragico, si accinge a succhiarci il sangue il conte Dracula. Catastrofismo dispensato a piene mani, patrimoniale, aumento del debito, nuova stretta sui pensionati, mancia a pioggia, spese per i migranti, avremo un altro esecutivo contro chi lavora e paga le tasse. Anche in questo caso però vedete anche libero sottolinea come Di Maio sia stato costretto a mollare la sedia da vicepremier e dunque il governo dell'orrore si fa. Parlano di Rousseau anche Vittorio Feltri e Paolo Becchi, Vittorio Feltri in particolare dice che è proprio una roba che non serve a niente, è una celtronata. Vi segnalo poi altri articoli. Sul Corriere della Sera, Emanuele Buzzi che come sapete è colui che segue con molta assiduità per il Corriere, il Movimento e spesso ottiene anche interviste interessanti, scrive, intanto viene presentato questo portfolio di Luigi Di Maio. E con questo titolo, le pressioni di Grillo sul passo indietro, il capo punta al Viminale ma potrebbe stare fuori, ci racconta insomma come si è arrivati diciamo a sbloccare questa situazione, come si è intervenuto evidentemente Grillo nel rimproverare una certa ostinazione chiamiamolo così. E che cosa voglia fare adesso Di Maio? Che vorrebbe, secondo appunto altre indiscrizioni, prendere il posto di Salvini al Viminale. Abbiamo visto qualcuno diceva anche potrebbe andare agli esteri. Rimane anche l'ipotesi Ministro del Sud. Di Maio, dice il Corriere della Sera, scioglierà nel giro delle prossime 30 ore questa riserva e intanto anche i big del Movimento si schierano al suo fianco definendo il suo discorso una lezione di stile dove ha spiegato bene il concetto, se il PD voleva la vicepresidenza era giusto che l'avesse anche il Movimento 5 Stelle. Questa è la posizione ufficiale. A proposito di Grillo, sul fatto quotidiano che ieri, ricordate, ospitava quella lettera abbastanza di difficile decrittatura, tant'è che si intitolava Grillo il suo neurologo e però era l'ennesimo intervento di Grillo per strigliare Di Maio. Bene, Grillo se l'è anche presa con il testo della domanda che ci sarà su Rousseau del quesito, dicendo è scritto male perché fra l'altro nel quesito si nomina il Partito Democratico mentre Grillo non avrebbe voluto che questo termine comparisse, che la sigla dei democratici comparisse, poi appunto se l'è presa con Di Maio e tant'è che infatti la parola PD dice nella versione iniziale c'era e poi è stato anche cambiato l'ordine, diciamo così, delle crocette da barrare perché all'inizio prima c'era il no e poi il sì, adesso invece chi voterà troverà prima il sì e poi il no, insomma tutti gli escamotage possibili e immaginabili per riuscire a ottenere un voto favorevole. A proposito di voti favorevoli sono in pochi quelli che lo dichiarano, fra questi c'è Carla Ruocco che è presidente della Commissione Finanze del Movimento 5 Stelle e che però dice serve una squadra diversa di governo rispetto agli uscenti e temi nuovi, la troviamo sul messaggero, questa intervista che conferma, vedete questa cosa dell'ira di Grillo che dice mi state sabotando e poi però ci racconta anche del capo del Movimento 5 Stelle, cioè di Di Maio che invece resta freddo sul sì. Andiamo a vedere la stampa che interpella un costituzionalista importante ovvero Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale che invece fa un ragionamento molto serio e dice insomma il voto su Russo può buttare a mare la democrazia rappresentativa, quindi attenzione a prenderlo sotto gamba, questo passaggio non è previsto in Costituzione, un conto dice è la consultazione interna a un partito, altro è un atto che ha impatti sul presente. Mi chiede, dice ancora Cesare Mirabelli, mi chiedo se la criticità non sia nei confronti del Presidente della Repubblica e poi ancora vi voglio far vedere questa intervista, eccola qua al giovane vice segretario della Lega, si chiama Andrea Crippa, che introduce un altro tema, gravi responsabilità per Mattarella, si avvalla questo obrobrio politico, cioè si sta parlando ancora del tema di Rousseau, il colle, ma in realtà anche di questa unione fra due partiti, il colle non si presta e all'inciucio fra PD e Movimento 5 Stelle, quindi vedete vengono messe insieme questi due temi. Su ancora il Corriere della Sera si parla del Partito Democratico, del ruolo di Zingaretti che chiede un cambio a partire dal decreto sicurezza e ancora, eccolo qua, invece per quello che riguarda la Lega ci ritorniamo perché pare stia facendo appunto incetta di senatori, nove del Movimento 5 Stelle ci cercano, continua a dire la Lega, sono giorni che lo dice, il rischio di un Senato in bilico e ancora Crippa che abbiamo visto intervistato sulla stampa dice noi offriamo posti sicuri, spetta a loro dare un segnale, ma si valuterà, insomma campagna acquisti a tutti gli effetti. C'è qualcuno che si alza e dice però basta parlare di poltrone, parliamo di altro, parliamo di lavoro, uno di questi è il Presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, dice è stato un anno molto difficile, basta parlare di poltrone, il nuovo governo cambi subito il decreto dignità, vedete si parla del decreto dignità, quindi non più del decreto sicurezza, cosa di cui si era parlato tanto invece nei giorni scorsi. Vi faccio vedere anche la prima pagina del Sole 24 ore, ricorda questi controlli per i contanti dai 10.000 euro, ma vi voglio far vedere anche a proposito di lavoro, eccolo qua sul messaggero. Reddito, partono le convocazioni ma il lavoro slitta al prossimo anno, insomma il reddito di cittadinanza continua a non funzionare come dovrebbe. Infine l'ultimissima prima pagina che vi mostro, ve la mostro alla fine perché si parla ancora di Rousseau, ma in realtà ci sono delle insinuazioni su Ministro, pari opportunità Spadafora, quando Spadafora voleva darsi fuoco per amore del capo della Cricca a segnalare come davvero si inizierà a bombardare questo governo senza ritegno. Buongiorno Paolo, a proposito di bombardamenti, sai che qualcuno diceva che bisognava bombardare gli uragani? Sì, diciamo che l'ho sentito ma ho fatto finta di non sentire. Qualcuno a caso, il Presidente... Uno a caso, sì. No, ma ci dici qualcosa di più, ma perché quest'idea? Ma non lo so, io forse credo che dipenda dal colore dei capelli, c'è qualche cosa perché ci sono anche altri finti biondi, non parlo ovviamente di te, che ogni tanto si vede che il colore influisce, sono penetra, infetta, non lo so, insomma, vabbè una spiegazione logica non c'è quindi dobbiamo fare con quello che ci viene in mente. Allora, la situazione di questa mattina, questa linea sembra una linea di temporali, in realtà queste due zone circa due ore fa erano separate, quindi ognuna sta viaggiando per conto suo, però si spostano comunque verso sud, uno sul Tirreno e una, come vedete, sull'Adriatico. Le piogge previste nella prima parte della giornata di oggi, direi anche per quello che riguarda le zone del nord verso ora di pranzo, perché vedete che ricompaiono delle piogge, quelle al sud cominciano a essere un pochino più presenti rispetto a queste ore, tant'è che nel pomeriggio, quindi nella seconda parte della giornata, ecco che fra centro-sud, diciamo, perché qui siamo proprio un po' al confine, e al sud i fenomeni sono localmente intensi, sono però localizzati, vedete, in queste zone, mentre al nord e al centro, rispetto a ieri, la situazione è già decisamente più tranquilla. Perché dico già? Perché nella giornata successiva abbiamo, vedete, un deciso miglioramento al nord, al centro e su buona parte del sud, meno Sicilia e Calabria. Qui ancora c'è una forte instabilità, più forte nel pomeriggio, come sempre, però i fenomeni localmente possono essere ancora intensi. Vediamo anche la giornata di giovedì, migliora un poco in Calabria, non in Sicilia e ricompaiono, e poi vedete sul resto del sud, al centro, insomma il tempo è abbastanza stabile, ricompaiono delle piogge estese, ma spesso non intense, quindi sono le piogge quelle deboli del pomeriggio, però si riaffacciano, vedete, su buona parte della parte centro-orientale del nord. I due flash per le temperature non abbiamo variazioni significative, sono temperature direi a questo punto per le medie di settembre, forse anche leggermente al di sopra dei livelli tra virgolette normali. Lo stato dei mari, ieri tutti molto tranquilli, avevamo detto da ovest aumenta il moto ondoso perché arriva anche vento e quindi vedete che si diventano facilmente mossi o molto mossi a partire da ovest, ma già si prende anche tutto l'Adriatico, resta tranquillo sostanzialmente soltanto. Lo Ionio, se volete noi ci vediamo subito prima delle 7.55 con le previsioni e anche come al solito con qualche foto. Adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Flavia Fratello.